Noto sorprese e denunciati due tombaroli stavano cercando beni archeologici nel sito di Eloro. Nella giornata di ieri agenti del commissariato di Noto, al termine di un'attenta e scoprosa attività investigativa, hanno denunciato due uomini di 39 anni per il reato di tentato furto aggravato di beni archeologici. Da sempre il territorio di Noto ricco di beni archeologici di inestimabile valore, preda di tombaroli senza scupoli e per contrastare tale fenomeno i poliziotti del locale commissariato hanno attivato una serie di controlli per porre fino a tale saccheggio. Nel pomeriggio del 15 novembre scorso, gli investigatori del commissariato Netino nel corso di un servizio di osservazione di appostamento sorprendevano due individui sospetti all'interno del sito archeologico di Eloro. I poliziotti notavano un'autovettura Fiat 500 parcheggiato di fronte al sito di interesse archeologico precedevano al controllo della targa. In considerazione del fatto che in passato il luogo era stato oggetto di attenzione da parte dei cosiddetti tombaroli, gli uomini diretti dal dottor Arena si addentravano nell'aria udendo a distanza il suono di metal detector e sorprendevano due uomini muniti di metal detector mentre effettuavano verifica del suolo, scavando diverse buche alla ricerca di beni archeologici. Prontamente bloccati, due uomini una volta perquisiti venivano condotti in commissariato per gli accertamenti di polizia e giudiziaria. Venivano sequestrati pertanto quattro metal detector, alcune lampade tascabili e arnesi per lo scavo. I due venivano denunciati per tentato furto aggravato di beni archeologici. Si procederà a proporre nei riguardi dei due uomini il divieto di ritorno nel comune di Noto. Complimentandosi con gli uomini del commissariato di Noto, il questore Gabriella Ioppolo ha dichiarato, Noto vanta un patrimonio archeologico di tutto rispetto per questo preda di tombaroli, una piaga che attenta alla bellezza del territorio. Dietro tali furti esiste un contrabbando di reperti archeologici venduti a collezionisti spesso stranieri, così per le monete, le anfore eccetera. Da qui la necessità di stimolare e promuovere il senso civico e il rispetto del nostro territorio ricco di storia e tradizione. Noto è patrimonio dell'umanità e appartiene a tutti i cittadini del mondo che amano custodire la storia e la memoria di quanto è a fondamento della cultura.